Allora, io vi farei vedere immediatamente le parole di Emmanuel Macron. Ecco che cosa ha detto il Presidente francese. Non escludo l'invio di truppe, rivendico le mie parole, era una parola della settimana scorsa, la Russia non deve vincere. Parole che hanno allertato un po' tutti. C'è stata una risposta, forse non proprio queste parole, ma una risposta a stretto giro di posta di Vladimir Putin, che ha detto questa cosa, guardate cosa ha detto. Siamo pronti a usare le armi atomiche, ma solo se minacciati. Quindi il crinale, Marco, si comincia a sottigliare parecchio, perché prima l'ipotesi di inviare soldati non era neanche paventabile. Adesso diventa possibile. Noi siamo partiti dalle armi difensive, poi le armi leggere, poi le armi pesanti, poi i tank leggeri, poi i carri armati pesanti, poi i missili a medio raggio, a breve raggio e poi addirittura a lungo raggio. Adesso i cacciabombardieri e poi che cosa rimane? Rimangono i soldati e poi le atomiche, no? Le escalation sono sempre così, quando partono nessuno ci fa caso, poi a mano a mano che spalanchi il vaso di Pandora ti ritrovi in una situazione che non puoi più controllare. È il classico autobus impazzito che scende in discesa, impicchiata con i freni rotti, no? Non sai dove può andare a sbattere. Per cui vedo che in Italia da Mattarella a Tajani a Crosetto, appena hanno sentito Macron, si sono spaventati. Ma paradossalmente in questa follia generale il meno irrazionale è Macron. Come il meno irrazionale? È il meno irrazionale perché almeno prende atto del fatto che se si vuole perseguire fino in fondo l'unica strategia che è stata seguita dalla Nato, senza perdere la guerra, che è già persa, è quella di mandare i soldati, non di continuare a far ammazzare gli ucraini, perché gli ucraini da ammazzare sono finiti, non ce ne sono più, mentre i russi possono continuare a mandare carne da macello. Quindi è una ipotesi terrificante, ma è meno ipocrita. Il problema è che Macron è sempre stato il più trattativista d'Europa. Se lo si vedeva all'inizio della riunione con Putin. È quello che diceva non dobbiamo umiliare Putin, perché era stato male informato, aveva capito che quello che le prendeva era Putin e non aveva capito che quelli che prendevamo eravamo noi. Adesso ha capito che le abbiamo già prese, che la guerra è persa, ha un'elezione a giugno, le europee, e quindi non vuole perdere la faccia. E per non perdere la faccia butta la palla sempre più lontano, dicendo adesso poi mandiamo i soldati, eccetera, eccetera. Perché? Perché almeno fino a giugno non possiamo dire che abbiamo perso. Lo sanno tutti che abbiamo perso. Quello che ha detto il Papa è in chiaro. Lo dicono tutti in privato. Lo sanno persino le pietre che l'Ucraina e la Nato hanno perso, perché hanno sbagliato tutti i calcoli. Non l'Ucraina che è stata indotta a quella sciagura, ma noi che gli abbiamo illusi della grande vittoria. Ma due settimane fa l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, ha approvato una risoluzione von der Leyen che dice che la guerra finirà soltanto quando l'Ucraina avrà recuperato tutte e quattro le regioni annese, più la Crimea. Cioè capisci la follia di questi qua? Se noi non sappiamo qual è il nostro obiettivo, o fissiamo obiettivi impossibili come quello, ecco che l'invio delle truppe diventa inerità. Io mi auguro che questi qui vengano spazzati via alle elezioni europee, perché l'alternativa è o salvare la faccia a Macron e a quelli lì o salvare la pelle nostra.